dunque è deciso il conte claudio sposerà la dolce ero qualsiasi intralcio qualsiasi impedimento qualsiasi ostacolo mi parrebbe grato quanto un farmaco mi sento mi sento ammalato per via del dispetto che mi ispira e tutto tutto quel che possa intervenire a contrariare i suoi affetti penso per questo ad accordarsi con i miei ma in che modo posso ostacolare il matrimonio